Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I viaggi di Dubai, il recentissimo di Giappone, l'accordo raggiunto con la Cina per la nomina di Vescovi sono stati fatti in un certo modo fatti epocali. In questo rapporto mi occuperò di una questione molto più modesta. Parlerò delle riforme legislative. E parlerò della riforma delle organizzazioni, la riforma delle persone e la riforma delle relazioni, delle persone con le istituzioni e delle persone tra di loro. Sono i tre ambiti in cui ho cercato di ricondurre le principali novità legislative che ha portato l'episcopato e il pontificato del Papa. Parlerò per primo della riforma delle organizzazioni. Come è stato detto, la Chiesa è una organizzazione, la Chiesa è una società di fondazione da Cristo e si presenta e si muove all'interno di organizzazioni. E' una società, è una comunità organizzata ierarchicamente, si muove all'interno, peregrina nella storia e si muove all'interno di altre, con altre organizzazioni e deve accomunarsi a un stesso linguaggio che nei rapporti tra le organizzazioni ha una dimensione giuridica, un'azione anche normativa. La prima, questa è la riforma delle organizzazioni. Il pontificato del Papa è iniziato sotto il segno del rinnovamento e della riforma ecclesiale. Oltre allo stile personale del Papa, le circostanze del conclave del 2013 si sono caratterizzate di un particolare clima di emozione e di aspettativa. Tra le prime misure adottate dal nuovo Papa è stata l'istituzione di un consiglio di cardinali di tutto il mondo provenienti per secondarlo nel fare questi consigli, di queste novità. Quindi lui ha voluto sin dall'inizio avere un confronto con persone provenienti di tutto il mondo per fare le novità, le riforme. La prima riforma di queste è stata quella della curia. Il Papa ha affrontato perché era molto in legame con le vicende che avevano prodotto la rinuncia del Papa Benedetto. La riforma della curia e più in generale la riforma dell'organizzazione che riguarda la santa sede, perché oltre alla curia c'è lo stato della città del Vaticano, ha seguito principalmente due linee. In primo luogo la revisione economica di trasparenza finanziaria, in secondo la semplificazione organizzativa e l'ottimizzazione delle risorse. Nonostante ciò che può falsamente suggerire una certa stampa, la santa sede non possiede di un reddito significativo che possa soddisfare le sue esigenze quotidiane di funzionamento. Francesco ha proseguito in questi anni il processo di trasparenza avviata dal suo predecisore, in seguito all'adesione della santa sede alla Convenzione Monetaria dell'Unione Europea, che sostituì la Convenzione che fino ad allora era esistita con la Repubblica Italiana per conto dell'Europa. L'adesione alla Convenzione Monetaria Europea costrinse però la santa sede ad adottare, nello stretto termine di un anno, a protezione della moneta, una lunga serie di misure istituzionali e legislative di natura penale e di controllo amministrativo che sono comuni al sistema europeo. In questo momento la santa sede, nel suo insieme, è già al livello degli altri paesi dell'Europa in tutto questo. A causa degli impegni pressi è stato necessario tipificare nuovi tipi penali, alcuni perfino ridicoli per le dimensioni dello Stato della città del Vaticano. E sono state create, dentro della santa sede, istituzioni di vigilanza come l'autorità informativa finanziaria che, oltre ad occuparsi della prevenzione e del riciclaggio, controlla l'unico istituto finanziario esistente nel Vaticano, l'Istituto delle Opere delle Religioni. Come vedete il mio discorso è molto più concreto. Io chiedo perdono perché ho abbandonato un elevato discorso che si teneva in questo panel e io sto andando molto al concreto. In pochissimo tempo, e questo va dato ordine, a partire dal 2009 è stato creato un ordinamento giuridico conforme agli standard internazionali, sottoposto già dal tempo di Benedetto XVI a controlli e valutazioni periodiche da parte di Monival, che è il Comitato di Esperti del Consiglio d'Europa. La celerità di cambiamenti normativi, questo non è normale, che dal 2009 sono passati dieci anni, è stata pure elogiata dall'entità del Consiglio d'Europa nelle due ultime valutazioni. La migliore controprova di questo processo di trasparenza, di adeguarsi allo standard delle società nelle quali vive la Santa Sede, è sicuramente ratificata nel 2015 da una convenzione fiscale con l'Italia, che è il Paese con il quale la Santa Sede mantiene un tratto più frequente, e poi con l'inclusione dello Stato della città del Vaticano nella cosiddetta White List, a fini fiscali, decretato dal Ministero per l'Economia nel settembre 2017. L'istituzione di un ordine giuridico che prima non esisteva, nel 2009 non c'era tutto questo. Il Vaticano, dove dobbiamo, e lo sai, è un Stato funzionale, senza un'economia di mercato, senza fiscalità, senza libertà di impresa, è un piccolo Stato funzionale all'indipendenza del Papa. Ha istituzionalmente chiuso in molto poco tempo questo aspetto delle riforme che il Papa aveva iniziato all'inizio del suo pontificato. Questo nuovo ordine è la piena attuazione della giurisdizione dei tribunali civili, che è una piccolezza, è una cosa, dello Stato della città del Vaticano. In queste e in altre materie, nei confronti di tutte le entità e di tutto il personale della Santa Sede, compreso quello diplomatico, si è completato, come dico, in solo dieci anni. Allo stesso tempo, il Papa ha riordinato il sistema di controllo dell'intera curia. All'inizio del 2013 venne creato un Consiglio per l'economia, composto equamente da economisti esperti ed ecclesiastici provenienti da tutte le parti del mondo, per monitorare globalmente l'attività finanziaria degli organismi e l'approvazione dei bilanci. Si crea una segreteria per l'economia per dettare i protocolli di gestione e controllare le spese. E addirittura un ufficio di revisore, al quale corrisponde la revisione contabile dei bilanci e il controllo dell'attività finanziaria con poteri di indagine e di denuncia avanti al tribunale che ha esercitato anche in fatti momenti recenti come ha rivelato la stampa. Con la creazione di questi tre organismi aveva inizio la riforma della curia, cioè dell'organizzazione responsabile di assistere il Papa nel governo della Chiesa Universale che è diversa dallo stato della città del Vaticano. Il disegno dei nuovi organismi era presveduto dall'idea di separare la gestione patrimoniale dal controllo di gestione affidando ciascuna a organismi separati e indipendenti. Una distinzione elementare se si vuole alla quale però era stata data in epoca precedente minore importanza in ragione anche dalle ridotte dimensioni dell'attività economica esistente della città del Vaticano e la preferenza per ottimizzare i limiti e le risorse umane disponibili. Non può sorprendere tuttavia che l'arrivo di queste novità imposte dalla società attuale e di nuove regole di attuazione in un'organizzazione multisecolare che seguiva parametri differenti abbia dato luogo ad alcune rettificazioni e contrasti di opinione che una certa stampa sempre ha cercato di ingrandire che è logico che stiamo in un processo di cambiamento della cultura nella gestione anche. Oltre alla trasparenza finanziaria e al modernamento dei sistemi di vigilanza e controllo sottoposto alla Santa Sede la riforma dell'organizzazione della Curia che si era proposto il Papa Francesco comprendeva ridurre la massa complessa di organismi che si erano accumulati nel corso del tempo. In questi anni si è così proceduto ad eliminare o accorpare entità anche per contenere il costo economico. Tutto ciò si è realizzato osservando una regola data dal Papa che era garantire i posti di lavoro del personale impiegato oggi. Un compito esemplare ma per niente semplice risanare l'intera azienda rispettando i posti di lavoro. A parte altre monifiche di minore entità la semplificazione organizzativa ha portato principalmente all'accorpamento di diverse entità. Il Dicastero per i laici Famiglia e Vita ha riunito due laici e Famiglia organismi che erano anche autonomi e il Dicastero per lo sviluppo umano integrale ha unito perfino quattro Dicasteri consigli pontifici consigli che si dedicavano prima fondamentalmente all'assistenza pastorale immigranti ospedali eccetera. Tuttavia la principale fusione di entità è avvenuta attorno al Dicastero per la comunicazione che ha unificato in un processo durato vari anni ben nove entità autonome autonome operante nel campo editoriale della diffusione di notizie. Questo progetto era stato progettato nel 2015 da un comitato internazionale e ha portato alla unificazione della Radio Vaticana l'osservatore la tipografia eccetera. Anche in questo caso l'oggettivo perseguito era dare unità alla comunicazione della Santa Sede adattarle al nuovo sistema di comunicazione ma anche ottimizzare la sua funzionalità e contonere i costi economichi. In ogni caso la configurazione di questo Dicasterio anche continua avanti. La riforma organizzativa è di scarsa utilità della quale ho parlato se non va accompagnato di una riforma delle persone. Adesso parlo della riforma delle persone. Francesco lo ricordò nel suo discorso natalicio alla curia romana nel 2016 che sono famosi questi discorsi del Papa alla curia dove diceva la curia la riforma della curia sarà efficace solo se agiamo con persone che sono anche rinnovate e non solo con nuovo personale. Non basta cambiare le persone sostituirle dobbiamo fare in modo che i membri della curia si rinnovino spiritualmente umanamente professionalmente dà l'impressione che lo stesso consiglio del cardinale che sin dall'inizio consigliò del Papa nei cambiamenti organizzativi si sia gradualmente convinto che tutti questi cambiamenti dell'organizzazione sono banali se non vanno accompagnati del mutamento delle persone e fin dall'inizio il Papa ha seguito questa linea cambiare le persone pochi mesi dopo la sua lezione gli prese per esempio l'iniziativa di trasformare i consueti esercizi spirituali per la curia che all'inizio del periodo quaresimale si svolgevano nel palazzo apostolico in una settimana di esercizi spirituali per tutti i cardinari e vescovi della curia in un ritirato luogo dei castelli romani lontano dal luogo di lavoro dove il Papa partecipa con tutti gli altri membri e lì si porta tutti gli anni in due tre pulmoni e andiamo lì per la formazione umana e professionale dei dirigenti la segreteria per l'economia sviluppò anche corsi residenziali a Orvieto e a Roma e ad altri luoghi centrati in tecniche di comunicazione di organizzazione del lavoro di relazione umana eccetera un imposto particolare è la creazione di una terza sezione della segreteria di stato a quanto ci è dato a capire il suo significato è lo stesso promuovere e sostenere lo sviluppo personale in questo caso degli ecclesiastici che appartengono al corpo diplomatico della Santa Selle che rappresentano in tutto diversi centenaie sono ripartite in tutto il mondo questa terza sezione è nata giustamente per accompagnare non solo o principalmente lo sviluppo professionale di carriera ma soprattutto nell'intento di prendersi cura lungo il tempo della loro situazione personale umana e spirituale di questo personale che è disposto dislocato in posti molto diversi e cambia di un posto all'altro e sono sacerdoti all'inizio dello scorso anno il Papa ha cominciato a promulgare diversi decreti rivolti al buon governo da parte dei Vescovi il modo proprio imparare a congedarsi che invita gli ecclesiastici a ricoprire le posizioni direttamente dipendenti della Santa Sede anche se sono fuori del limite ed età se sono in buona salute il modo proprio come una madre amorevole che stabilì azioni disciplinari per rimozione dell'incarico dei Vescovi o superiori che inadempienti nel loro governo che non vigilano sufficientemente ancora maggiore incisività ha avuto in questa stessa tematica il modo proprio Vos estis Lux mundi promulgato a seguito della riunione del Presidente delle Conferenze Episcopali e la butta nel febbraio scorso queste sono state solo norme procedurali Vos estis Lux mundi e di informazione che però hanno perimetrato precisi doveri per chierici e religiosi ad esempio doveri di denuncia assieme a innovazioni organizzative per nel caso di accurate indagini nel caso di denunce relative agli abusi di minori Francesco ha continuato in questa materia la linea avviata dal suo precursore di sua iniziativa tra l'altro le conferenze episcopali e le diocesi hanno dovuto stabilire protocolli chiari per la prevenzione e l'eventuale denuncia di tali crimini in conformità con il diritto penale di ciascun paese tuttavia la disciplina canonica è la stessa e di applicazione in tutto il mondo dal 2001 gli abusi di minori appartengono alla giurisdizione esclusiva della congregazione per la dottrina della fede a cui tutti i vescovi e superiori sono tenuti a informare per seguire poi la propria procedurale che la congregazione segnale in tutte queste circostanze il sistema canonico procede con autonomia rispetto a quello civile rispettando sempre le regole del paese e molto spesso imponendo sanzioni per atti che la giurisdizione civile ha depositato a concilato o che è stato in fase è dato in fase assolutoria si noti per esempio che la prescrizione di tali crimini è stata innalzata nella chiesa a 20 anni a partire da quanto la vittima è maggiorenne oltre alle iniziative di prevenzione e formazione che vengono adottate in tutta la chiesa speriamo di poter completare entro pochi mesi anche la riforma della legislazione penale del codice di diritto canonico in modo da rendere più semplice e incisivo l'impegno del sistema penale in funzione anche preventiva ho parlato della riforma delle organizzazioni della riforma delle persone adesso vorrei nell'ultima parte aggiungere qualcosa sulla riforma delle relazioni relazioni tra soggetti che lavorano all'interno delle istituzioni e del rapporto tra le persone con le istituzioni sin dall'inizio del suo pontificato Papa Francesco ha cercato di minimizzare protocolli e formalità tradizionali nella curia promuovendo un contatto più spontaneo e diretto i primi gesti si sono manifestati nel pomeriggio della sua elezione quando si presentò al popolo nella loggia centrale della Basilica di San Pietro in modo semplice sensabilità di Solemni e quando ha voluto tornare a Santa Marta nello stesso Pullman che lo aveva portato nei pressi della Cappella Sistina al mattino volendo occupare nella residenza la stessa stanza che aveva occupato la sera prima questo procedere spontaneo e senza protocolli pur nella doverosa educazione del caso è stato generale nelle riunioni di lavoro ritrovando le persone e anche in luoghi comuni e risolvando le sale del Palazzo Apostolico solo per le interviste estrettamente necessarie e protocollari un comportamento simile senza che per il momento si sia tradotto in modifiche normative però è di prassi il Papa lo ha in occasione delle visite all'Imina che ogni cinque anni compiono i Vescovi in tutto il mondo per visitare il Papa a Roma Francesco ha anche inaugurato qui un sistema diretto di incontri per trattare apertamente i problemi dei singoli paesi assieme ai rappresentanti dei castelli coinvolti in queste riunioni senza ordine del giorno ognuno presenta le questioni che ritiene opportuno con la possibilità che ognuno intervenga quando desidera farlo a volte sono incontri di due tre ore il risultato è stato positivo in estremo non solo perché i Vescovi possono esprimersi liberamente ma anche perché uguale spontaneità e concretezza si è poi trasmessa in modo naturale agli incontri che poi tengono i Vescovi nei vari di castelli rafforzando la collaborazione e migliorando la comunicazione con la Santa Sede in diverse occasioni durante il Pontificato si è fatto anche riferimento al decentramento tra la Santa Sede e i Vescovi di ogni luogo a mio modo di vedere più che al trasferimento di competenze il decentramento dovrebbe realizzarsi attraverso costanti atteggiamenti di collaborazione all'insegna della complementarietà delle azioni questo a parte di questi episodi con la stessa intenzione di migliorare il rapporto delle istituzioni ecclesiastiche e con il Papa il Papa ha affrontato la riforma dei processi matrimoniali di nullità la risoluzione di questi conflitti avviene nella Chiesa attraverso l'intervento di istituti giudiziari dei tribunali ecclesiastici e di procedure di ricerca della verità in certa misura erano che in certa misura erano state a lungo problematiche nella maggior parte dei luoghi l'organizzazione ecclesiastica non era in grado di risolvere in tempi ragionevoli questi problemi che la cultura moderna ha fatto crescere in modo esponenziale con la riforma del processo matrimoniale il Papa ha avvicinato l'organo giudiziario alle persone interessate facilitando la creazione di tribunali diocesani coinvolgendo gli organi pastorali della parrocchia e delle diocesi nella gestione dei casi e in modo particolare indicando il Vescovo come pastore diocesano ad agire da giudice quando in ragioni della prevedibile maggiore evidenza e chiarità del risultato è consesso seguire una procedura più breve ed è che giudice della quale giudice appunto il Vescovo infine prima di concludere vorrei fare riferimento ad una delle novità più importanti per me del pontificato di Francesco che riguarda anche il rapporto delle persone con le istituzioni si tratta della riforma del sinodo dei Vescovi realizzata l'anno scorso con la costituzione apostolica episcopalis comunio come risaputo il sinodo dei Vescovi era e una istituzione consultiva del somo pontefice per il governo pastorale della Chiesa istituita da Paolo VI all'inizio dell'ultimo periodo del concilio Vaticano II è un'organizzazione composta da Vescovi che rappresentano le conferenze episcopali di tutto il mondo e che nei loro 50 anni di vita si sono si occupata si sono riunita abbastanza regolarmente in assemblee di formato differente le regole iniziate date dal sino nel 1965 sono state modificate in diverse occasioni senza però modificare la struttura originale la novità che il Papa ha introdotto ora non riguarda tanto la struttura teologica del sinodo che rimane sostanzialmente la stessa ma la procedura di attuazione ed è qui che il Papa ha voluto introdurre un importante cambiamento per favorire la partecipazione dei fedeli in precedenza erano i Vescovi delle conferenze episcopali a delineare e discutere previamente il contenuto degli argomenti da trattare poi nel sinodo con la nuova procedura invece sono i fedeli cristiani nelle parrocchie nelle associazioni movimenti e in altre istituzioni a discutere prima sulle questioni da trattare individuando le problematiche concrete e le priorità poi in un secondo momento la segretaria generale del sinodo elabora i risultati di così ampia consultazione sottoponendo infine i risultati ai Vescovi che partecipano al sinodo in rappresentanza di tutte le conferenze episcopali evidentemente la Chiesa è una istituzione hierarchica che non ammette il principio democratico e tuttavia la sinodalità che sta promuovendo il Papa è la realtà il modo di azione più vicino all'idea democratica che in fondo non è altro che dare voce a un principio dichiarato dalla Lumen Gentium che è la corresponsabilità di tutto il popolo cristiano di tutti i battezzati nella missione della Chiesa in questo modo il Papa non solo ha riformato il meccanismo di attività di un'istituzione centrale come il sinodo ma soprattutto ha introdotto la Chiesa stessa su sentieri di sonodarità concludo organizzazioni persone e relazioni tra le persone sono tre settori ai quali possono essere riportati secondo me le principali iniziative del Papa nell'ambito istituzionale e giuridico ed auspicare che dette iniziative riescano a consolidarsi configurando un nuovo ordine culturale d'accordo con la tradizione della Chiesa e con quanto essa richiede per compiere la sua missione evangelizzatrice nel mondo grazie 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 a tutti grazie a tutti